Nel corso dell'ultimo anno abbiamo capito come le tecnologie digitali sono fondamentali nel nostro modo di vivere e di lavorare. Il cambiamento repentino del nostro modo di lavorare ci ha permesso di cogliere alcune opportunità in termini di miglioramento della produttività e delle modalità di collaborazione. Allo stesso tempo ha messo in luce alcune criticità come il senso di isolamento e la difficoltà nel creare elementi di condivisione con l'organizzazione. Per questo tecnologie, dati e insight che questi possono offrire si rivelano fondamentali per capire come costruire lo spazio di lavoro del futuro in modo che sia efficace sia per le persone che per l'organizzazione. Di questo parleremo oggi con Luba Manolova, Director Modern Worker in Cyber Security di Microsoft Italia. Buongiorno Luba. Buongiorno Fiorella. Dalla vostra esperienza come è cambiato il modo di lavorare in seguito alla pandemia? Stiamo vivendo un momento di grandissima discontinuità nella transizione verso un mondo di lavoro digital che richiede la rivisitazione dei modelli di leadership e organizzazione insieme alla costruzione di una nuova cultura che abbraccia il cambiamento su più livelli e dimensioni, ovvero alimentando la produttività con un corretto bilanciamento del well-being che diventa sempre più importante, rafforzando la condivisione di conoscenze e expertise, favorendo un mindset di continuo apprendimento e sviluppo di nuove competenze, incentivando la creazione di un set di valori distinti per ogni organizzazione che ingaggiano attivamente le persone e le guidano verso una purpose comune. Il tutto mettendo la persona al centro definendo un insieme di esperienze per un employee journey che stia al passo con le nuove esigenze di lavoro ibrido. Perfetto e in che modo dati e nuove tecnologie possono essere di supporto alla vita lavorativa di tutti i giorni? I dati e le nuove tecnologie hanno un potere trasformativo, aiutano le persone ad esprimere al meglio il proprio potenziale, offrendo gli strumenti per essere più efficaci ed efficienti per raggiungere i propri obiettivi. L'intelligenza artificiale poi ci supporta nel pianificare al meglio il nostro tempo, a ricordarci le attività imminenti e gestire emergenze accedendo con semplicità a informazioni organizzate in modo strutturato e user friendly. nello stesso tempo ci fornisce i giusti insight che diventano sempre più actionable per poter essere più produttivi e nello stesso tempo poter gestire il proprio benessere con accorgimenti ad hoc, quali necessità di riservarsi tempo per concentrazione, per apprendere, per rafforzare le relazioni con i colleghi o semplicemente per prendere un momento di riflessione o meditazione oltre tracciare qualche confine tra lavoro e vita privata. In effetti i dati diventano i nostri alleati per monitorare e gestire il nostro lavoro a livello individuale e nello stesso tempo ci consentono di intervenire anche sui team e sull'organizzazione, offrendo gli spunti e gli approfondimenti necessari a manager e leader sui comportamenti delle persone, sulla coesione e engagement di tutte le strutture dell'azienda. Per chiudere, tre parole per definire le sfide della Direzione Risorse Umane nel 2021. L'engagement delle persone, la flessibilità che va offerta in un contesto ibrido, il benessere sempre più diffuso all'interno delle organizzazioni. Grazie mille Luba. Grazie mille Luba.